Allora la visualizzazione in poche parole consiste in questo, di portare dopo un breve rilassamento l'attenzione al centro del cervello e percepire anche solo immaginativamente i due emisferi cerebrali secondo un certo circuito che viene proprio spiegato. E poi portare l'attenzione fino su in cima al centro della nostra galassia, noi sappiamo che noi siamo un pianetino periferico della galassia detta anche Via Lattea insieme a 100 miliardi di galassie, non so se prendo l'idea della meraviglia di essere degli esseri umani dove sembra che là fuori non ci sia nessuno. Esatto, forse no. Forse no. E poi riportare al centro attraverso la ghiandola pineale, passare per il cuore al centro della terra e riconnettersi di nuovo, prima con il cuore per la connessione diciamo chiamiamola orizzontale e poi di nuovo con una procedura particolare attivare la connessione ghiandola pineale con quello che viene chiamato il famoso terzo occhio, che è una specie di portale a triangolo e vediamo che il triangolo con l'occhio in centro è il simbolo esoterico di tantissime culture, benefici della gandola pineale, a parte l'allineamento con la salute perché è il principale componente dell'equilibrio del sistema immunitario. E' anche di una certa prevenzione diciamo, non è solamente… Assolutamente, però il beneficio diciamo soggettivo è la possibilità di sviluppare una sensibilità sottile per proiettare, e queste sono proprio le parole di Fresia Castro, la co-creazione, diciamo quindi poter intervenire in maniera propositiva sul divenire del nostro mondo, mettiamola così.